buongiorno sono sergio sono sergio nappi debbo naturalmente dirvi che sono stato pagato per questa per questa intervista il mio cachet peraltro è pure abbastanza abbastanza alto ma gli amici di capital house hanno detto che nelle loro disponibilità poter poter pagare qualsiasi forma di cachet quindi io sono qui stamattina liberamente naturalmente a dire a dare il mio giudizio sulle attività di capital house società che naturalmente opera nell immobiliare qui nel mio comune quindi abbiamo il piacere di averli ospiti nel nostro comune e credo che in poco tempo si sono ritagliati tutto lo spazio lo spazio che hanno meritato per il lavoro che hanno svolto su questo su questo territorio io personalmente naturalmente al di là di essere un montefortese doc e quindi di conoscere ogni cosa di questo di questo paese naturalmente ho avuto ho avuto anche il piacere di avere un rapporto diciamo diciamo professionale con con gli amici di capital house che sono riusciti in una fase anche delicata difficile dal punto di vista della congiuntura economica e quindi soprattutto sull'immobiliare vendermi un appartamento che per tempo ho cercato di vendere con grosse difficoltà mi sono affidato agli amici di capital house che nel giro di qualche mese hanno risolto hanno risolto al meglio la mia situazione quindi il mio giudizio sul capital house non può che essere può essere positivo e quindi invito tutti quanti così laddove c'è esigenza di di avere rapporti con l'immobiliare di affidarsi senza senza così nessuna riserva alla a questi amici che hanno operato bene operano bene credo che continueranno ad operare bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti